Hey Shalom, Shalom, Shalom Eccoci qui con una breve lezione E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahawa Bahashem Yahawashai, Bahashem Brukakodash Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS Che mi hanno insegnato questa verità che è la pura verità Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar'ala Israele Che si stanno affaticando, rischiando la propria vita Per la causa di questa verità qui Shalom anche alle poche Akwat, sorelle che stanno guadagnando queste lezioni per imparare Io sono il fratello Yara'ya, Yashar'ala della GMS Italia Ok? E questa sarebbe una seconda parte alla lezione che ho fatto ieri Riguardo il motivo perché vogliono farvi credere nella Trinità E questo l'avevo nominato anche nel video Il concilio di Nicea Ok? Ed è molto importante entrare in questa storia qui Per capire certe cose, certi dinamici che sono successe Ok? Questo è Wikipedia Il concilio di Nicea Primo Ok? Leggiamo Il concilio di Nicea tenuto nel 325 dopo la morte di Cristo E' stato il primo concilio ecumenico Ok? Cristiano Ok? E' stato il primo concilio ecumenico Ok? E dovete capire una cosa La parola ecumenico viene dalla parola greco Che si dice Eucumene Che vuol dire il mondo Ok? Andiamo a vedere ecumenico Concilio ecumenico Vediamo Vedete? Dell'aggettivo eucumenico Lo riconduce al greco Ecumene Ok? Se vi ricordate la lezione che ho fatto riguardo Dio ama il mondo Ho tirato fuori questa cosa qui Che vuol dire l'intero mondo abitato Ok? Perciò Quello che vogliono dirvi qui E' stato il primo concilio mondiale cristiano Ok? Andiamo a vedere un po' di dinamiche Cosa è successo in questo concilio Venne confocato e preseduto dall'imperatore Costantino I Ok? Il quale intendeva ristabilire la pace religiosa E raggiungere l'unità dogmatica Ok? Questo è l'inganno che hanno fatto Hanno voluto raggiungere un'unità dogmatica Ok? Hanno voluto Fare a tutto il mondo Seguire una stessa cosa Ok? Minata da varie dispute In particolare su Arianesimo Che andremo a vedere Il suo intento era anche politico Dal momento che i forti contrasti tra i cristiani Debolivano anche la società E con essa lo stato romano Se guardate qui Se non avete gli occhi dello spirito Se non avete l'intendimento della storia E se cosa è successo Hanno cercato Di dare una luce oscura Al Arianesimo A questo Ariano qui Si chiama Ariano dell'Alessandro Ok? Andiamo a vedere un attimo Arianesimo Vedete? Alessandro Ario Ok? È stato lui E lui Dopo arriveremo A quel punto là Non voglio Confondere niente Ok? Ma in poche parole In poche parole Anzi Leggiamo qui Lo scopo del concilio Era quello Di rimuovere La divergenza Sorte Inizialmente Nella chiesa Di Alessandria D'Egitto E poi Diffuse Largamente Sulla Natura Di Cristo In relazione Al padre In particolare Se Egli fosse nato Dal padre E così Nella stessa natura Eterna Del padre O Se invece Come insegnava Ario Egli fosse stato Creato E avesse così Avuto un inizio Nel tempo Infatti Cosa Cosa hanno discusso In questa cosa Voglio rendere Proprio Breve Questa lezione E vi consiglio Di andare A leggere Tutto Un'ulteriore Decisione Del concilio Fu stabilire Una data Per la Pasqua La festa Principale Del cristianità Ok? Infatti Cosa hanno fatto In questo In questo Questo concilio Questo concilio Hanno Fatto di tutto Per infusare Ok? Per infusare Per introdurre Tutti I culti Pagani Che facevano Come ho già fatto Il video Nell'ultimo video Andate a vedere Questi culti Qui Hanno cercato Di tutto Di infusarlo Nel cristianesimo Ok? Hanno cercato Perché Nell'antichità Avevano Dei pagani E seguivano Questi Dei Della Trinità Ok? Sono tre Dei Ma sono uno Tre Dei Uno In questo Loro hanno tentato Di far diventare La stessa cosa Come il cristianesimo E infatti C'era questo signore Ario Che sicuramente Era un ebreo Israelita Questo è un bel dipinto Pele marrone Ok? Dice Ario Ario Arius Libia 256 Costantinopoli 333 È stato Un presbitero E teologo Berbero La corrente Teologia cristiana Sotta attorno Alle due dottrine religiose Fu condannata Come erettica Nel primo concilio Di Nicea E viene in seguito Indicata Con il nome Di arianesimo Si diffuso Prevalentemente Tra i popoli germanici Infatti Lui La dottrina Che diceva Era la dottrina Originaria Come la conosciamo Nella Bibbia Che Yahawasai Anzi Leggiamo Ario Insegnava Che Dio Era unico Eterno E invisibile E quindi Figlio di Dio In quanto generato Non poteva essere Considerato Dio Allo stesso modo Del padre Proprio perché La natura divina È unica E lui Aveva ragione Perché la scrittura Per l'ennesima volta Ci fa capire Che Dio padre È un È una figura Diversa Lui è senza fine Senza inizio Ok Il figlio È stato il primo Creato Perciò Aveva un inizio Ok E non sono gli stessi Yahawasai stesso Lo dice Che io torno Da mio padre Lui è più grande Di me Ok La Bibbia Ha sempre indicato Tutte queste cose Qui Basta che andate A vedere Il video precedente Che abbiamo fatto Riguardo Queste Questi insegnamenti Qui abbiamo tirato fuori Tutti i versetti Questo è solamente Per farvi vedere Cosa è successo Nel passato E cosa hanno fatto Lo hanno chiamato Un Lo hanno chiamato Un Un'eretica Hanno chiamato La sua dottrina Eretica Che questo era Quello che credevano I veri seguitori Di Yahawasai Sapevano Che era Il figlio Il primo genito Del padre E il suo padre Era più grande Di lui Ok Perciò In poche parole Hanno fatto Questo concilio Per Introdurre Tutte le cose Occulte Pagani Pagana E dare luce Oscura E retica A coloro Che avevano La dottrina Giusta Ok E cosa hanno fatto Hanno infuso Anche Questa Pasqua Che non è nulla A che fare Con la Pasqua Che la Chiesa fa Ok La Pasqua È tutta Un'altra cosa Come abbiamo Sempre insegnato Ma loro Hanno fatto Hanno introdotto Un Un rito Pagano Ok Detto questo Io vi consiglio Di andare a leggere Cosa è successo In questo concilio E Di leggere anche un po' Di Ariano E vedere Cosa Cosa sta succedendo Perché se noi Non conosciamo bene La storia È facile che Ci ingannano Ok La Trinità Non è biblica Dio Padre È un'entità Separata Al figlio E lo Spirito Santo È lo spirito Della verità Che viene dal padre Ok Non esiste nulla Di Trinità Come cercano Di farvi credere Spero di aver Spiegato tutto Detto questo Voglio dare Tutti i lodi Dovuto al padre Yehawah Bahashem Yehawashai Bahashem Rukah Kudash Miei doppi onori Agli apostoli Anziani Della Great Mushton GMS Che mi hanno Insegnato Questa verità Che è la pura verità Pace Saluti Agli eletti Della casa Di Yashar Allah Che si affaticano Alla prossima Shalom Salaam Salaam Salaam